Il dirigente medico è stato assegnato all'Asla Vezzano Sumona L'Aquila e non all'ospedale dell'Annunziata di Sulmona dove potrà intervenire in caso di necessità. In una conversazione telefonica con il responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, direttore sanitario aziendale dell'Asla 1 Teresa Colizza, pone fine a ogni polemica in merito all'assunzione di una dottoressa nell'eparto di medicina nucleare del nosocomio Peligno. Il caso si è aperto quando il dirigente medico ha preso servizio all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, mentre era pronto a mettersi a lavoro nel presidio sanitario di Sulmona. In realtà l'assegnazione è all'Asla 1, precisa Colizza. La dottoressa al momento è sin servizio all'Aquila perché esiste una necessità, ma nel momento in cui il reparto di Sulmona avrà bisogno non ci sarà alcun tipo di problema. La vicenda aveva fatto interrogare a lungo il Tribunale per i diritti del malato, ma anche le sigle sindacali che nei mesi scorsi hanno chiesto all'azienda sanitaria di dare spiegazioni in merito. Sollecitata da Edoardo Facchini, il direttore sanitario aziendale Teresa Colizza smorsa quindi tutti gli allarmi che facevano pensare a un depotenziamento del reparto di medicina nucleare dell'ospedale di Sulmona a vantaggio di quello aquilano.